Siamo qui a Palazzo Lascaris con la consigliera Francesca Frediani di Movimento 4 Ottobre che oggi ha aderito al progetto Unione Popolare. Consigliera, come mai questa adesione al progetto? Ho formalizzato un qualcosa che in realtà avevo già comunicato durante la scorsa campagna elettorale nazionale perché credo che questo progetto possa dare un'opportunità a tutti coloro che non riescono più a trovare risposte negli altri partiti. Purtroppo le ultime elezioni ci hanno dimostrato che molte persone non hanno più fiducia nella politica e io stessa devo dire che avevo perso fiducia nella politica pur praticandola quotidianamente perché non mi sentivo più parte di un progetto generale. Quindi la possibilità di tornare a far parte di un qualcosa, quindi di un sistema di persone che credono in qualcosa e portano avanti degli obiettivi sicuramente è stata la prima molla che mi ha spinto verso questa scelta. Grazie consigliera. Grazie a voi.